In esclusiva ai microfoni di Tef Channel, Guilhermo Vicario, nuovo portiere del Perugia, guardando il tuo curriculum c'è subito una curiosità. Hai vinto la Serie D, hai vinto la Serie C e adesso? So dove vuoi arrivare, l'abbino l'ho ancora vinta. Mi auguro che magari con l'impegno di squadra, il gioco di squadra, comunque la forza di questo gruppo che già in questi primi giorni di ambientamento ho visto essere un gruppo solido, un gruppo collaudato con dei giocatori forti. Sarebbe fantastico se accadesse quest'anno. Tu sei un esempio per tanti ragazzi. Passato dai dilettanti, l'esordio fra i grandi al Fontana Fredda in Serie D, una stagione in Serie D al Venezia, vittore del campionato, vittore del campionato ancora in Serie C. Poi sei riuscito a ritagliarti uno spazio importante, lo scorso anno grande protagonista in Serie B, sempre con la maglia del Venezia. Sì, è stata una scalata bella, faticosa, però molto soddisfacente perché credo che comunque nella carriera di un atleta, esclusi i fenomeni ovviamente che sono già pronti per il palcoscenici importante, le tappe debbano essere fatte e siano di grande formazione. Quindi di questo percorso ne vado orgoglioso. Ovviamente non è finito, anzi è un percorso ancora in fase di evoluzione, però di quello che ho fatto fino ad oggi sono contento perché sono appunto partito dall'Interregionale e ho fatto un po' tutti gli scalini per arrivare dove sono arrivato adesso. Il Cagliari ti ha voluto fortemente un contratto importante per te di 5 anni, poi fra l'altro i colleghi di Umbria 24 t'hanno immortalato insieme al responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti che era venuto a farti visita in ritiro. Senti, ora ce lo puoi dire, che cosa ti ha detto, come ti ha convinto Goretti? Beh, era venuto appunto per parlare con me, c'era una domenica in occasione di un amichevole del Cagliari e mi ha detto che mi voleva fortemente e io ero molto lusingato da queste parole, sarei stato molto contento che la trattativa si sbloccasse in tempi rapidi e infatti ho spinto anche per questo e finalmente sono arrivato qua a Perugia. Che cosa ti aspetti innanzitutto personalmente da questa stagione? Personalmente mi aspetto una stagione appunto importante e di ulteriore crescita rispetto a quella che ho fatto anche l'anno scorso e ovviamente deve essere, diciamo, coadjuvata da risultato di squadra, quello è importantissimo, quindi senza porsi obiettivi però ho già visto insomma che il gruppo è un gruppo forte, è un gruppo che sa quello che vuole quindi abbiamo tutte le carte in regola per far bene. Ci hai girato intorno, quindi il traguardo di squadra qual è? Il traguardo di squadra adesso è anche presto, però sicuramente è meglio non porselo e cercare di migliorarsi gara dopo gara, ovviamente se il traguardo finale fosse quello di vincere saremmo tutti super contenti. Ti sei visto forse subito la miglior cartolina di Perugia? Più di 17.000 persone allo stadio, esordio per te subito contro una big come la Roma? Sì, è stata un'emozione veramente forte, è stata una cornice veramente calda, di grosso calore, è stata veramente una bellissima serata di sport, una bellissima serata di calcio, questo senza dubbio, è stato un bellissimo colpo d'occhio anche. Giuseppe Ruliano, di Udine, se uno ti dice Perugia, che cosa ti viene in mente subito? Innanzitutto non ci ero mai venuto, neanche in vacanza, in visita a Lumbria, non l'ho fatta molto, quindi su questo mi trovo un po' impreparato, però me ne hanno parlato molto bene a livello anche di città, di qualità della vita, anche proprio di qualità della città, poi insomma so che a vicino c'è Assisi, che è noto appunto per San Francesco e me ne hanno parlato molto bene in tutti i borghi dell'Umbria e quindi sicuramente mi troverò bene. Farai anche il turista dunque, chissà che magari in questo giro turistico non ti accompagni Marcello Falzerano, che insomma è stato buon consigliere per farti venire a Perugia, non che ce ne fosse particolarmente bisogno, però... No, non ce n'era particolarmente bisogno, però insomma quando ho capito che il terreno era fertile, c'era la possibilità di approdare qua appunto a Perugia, ci siamo sentiti, lui mi ha confermato quelle che erano le mie sensazioni, che il gruppo era buono, ci stava bene, c'erano ambizioni importanti, quindi sono molto entusiasta di essere qua. Insieme avete sfiorato l'A a Venezia, come l'ha ritrovato Marcello? Migliorato o peggiorato? No, l'ho ritrovato sempre con la giusta carica, sempre con l'agonismo che lo contraddistingue in campo, lo vedo molto bene, lo rivedo quello di Venezia. Hai ritrovato anche Carraro, insieme avevate fatto un'esperienza con la nazionale DB? Sì, con Marce avevamo fatto questa esperienza a Frosinone due anni fa, ci eravamo conosciuti rapidamente in due giorni, però appena ci siamo ritrovati, il feeling è rinato subito. Il piccolo Guglielmo Vicario, abbonato all'Udinese, cresce con il mito di? Samir Andanovic. Pur non essendo però? Interista. Andanovic perché mi ha sempre impressionato per il carisma, per la personalità, poi per l'autorevolezza con cui riusciva a comandare i compagni e comandare l'area. Poi in quegli anni lì a Udine e si è confermato anche in questi ultimi tanti anni all'Inter, ha sempre mostrato grande costanza nelle prestazioni e offrendo anche delle parate di livello, quindi secondo me è uno dei più forti tutti. Guglielmo Vicario, cosa vorrebbe avere di Andanovic? Sicuramente il fisico, quello senza dubbio. E poi vorrei avere tante qualità tecniche, però c'è tempo per lavorare, sono un po' più giovane. Torniamo sull'impatto del Curi, un Curi pieno come la gara contro la Roma. Che impressione ti ha fatto quella sera? Sei andato a letto pensando che cosa? Sono andato a letto pensando alla grande passione, alla grande risposta che ha avuto il nostro pubblico, i nostri tifosi, perché sinceramente non me l'aspettavo. ero venuto l'anno scorso a giocare a Perugia col Venezia, però questa è stata veramente un'emozione forte che mi ha dato la carica per preparare al meglio questo inizio di stagione. Sarà un campionato combattuto come ogni anno, perché ci sono diverse squadre che hanno grandi ambizioni che scendono dalla Serie A, come l'Empoli e il Frosinone. Sarà una bella Serie B, anche noi siamo ambiziosi, quindi ci sarà grande competitività sportiva in campo, quindi ci faremo trovare pronti alla battaglia. Nel finale di stagione come allenatore hai avuto un tecnico molto conosciuto qui a Perugia, uno che ha scritto la storia del Perugia, come Cersei Cosmi. Sì, è arrivato in una situazione molto complicata, in cui serviva veramente un miracolo. Sinceramente siamo stati anche un po' sfortunati, perché nelle gare di play-out, dopo tutte le vicende calde di quel mese assurdo, probabilmente quella squadra che si doveva salvare anche per merito di gioco espresso sul campo eravamo noi. Non ci siamo riusciti, purtroppo. Lui credo abbia dato tutto quello che aveva da darci, noi ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo. Vi siete sentiti? No, non ci siamo sentiti, però sicuramente se ci sarà occasione magari ci vedremo. L'impatto con Massimo Addo com'è stato? È stato un impatto diretto, perché il mister è una persona diretta, uno che giustamente dice quello che pensa. Che cosa ti ha detto subito? La prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato su un ritiro a Pietrolunga, mi ha detto, stavo parlando con il preparatore portiere, ma gli ha detto che devo uscire fino a metà campo. Credo sia, insomma, nella battuta, ti dia un segnale abbastanza indicativo di quello che vuole essere il suo calcio, su un calcio propositivo e sicuramente anche la linea di difesa col portiere devono farsi trovare pronti ad assecondare le sue richieste e a fare le cose nel migliore dei modi. Se dovessi fare un biglietto da visita, la parata più bella di Guglielmo Vicario in questi anni, la prima che ti viene in mente così? Ma ne ho fatto una a Brescia l'anno scorso, Donnarumma. È stata una parata ma ravvicinata, su una palla dietro mi sembra messa da Bisoli. E quindi quella la porto dentro. Invece dici anche la papera più grossa. Ma la papera più grossa l'anno scorso ho fatto una sul tiro di Brugman a Pescara, non sono stato perfetto. E ancora ti brucia per come ne parli? Un pochino sì, anche perché avevamo perso 1-0, poi quando perdi 1-0 così agli ultimi minuti prendere un gol su cui puoi fare di più ti dà fastidio. C'è qualche compagno che non conoscevi che ti ha impressionato a Perugia? Sì, mi hanno impressionato parecchi. Da vicino non me lo ricordavo così bene, ma Dragomir mi ha fatto un'ottima impressione. Anche Christian Kwan è giovane, oltre ad essere molto simpatico è anche molto bravo, ci mette molta grinta, molto passione in quello che fa. Detto così, quindi piano piano, anche con i giusti aggiustamenti, questo Perugia dove può arrivare? Questo non lo so, non spetta a me, però mi auguro che sia un campionato di qualità, fatto in un bel modo. Come ho detto prima, è meglio non porci obiettivi, però sicuramente potremmo toglierci delle belle soddisfazioni durante l'anno. A Oddo hai promesso di uscire fino a metà campo, ai tifosi che cosa prometti? Ai tifosi prometto di gioire il più possibile insieme, questo vuol dire di vincere più partite e magari a fine anno di sognare in grande. Ti piacerebbero altre 17.000 persone al Curi? Quello senza dubbi, è stato un colpo d'occhio e un'emozione molto forte, quindi potrebbe essere il nostro dodicesimo uomo in campo, quindi ci aspettiamo che sia ogni domenica sempre più pieno.